appassionati di pesca feeder su sportit.com c'è l'offerta che fa per voi un combo trabucco da pesca feeder canna più mulinello del valore commerciale di oltre 200 euro a soli 129 euro sì è proprio così con 129 euro riceverete a casa vostra senza alcuna spesa aggiuntiva una canna da feeder trabucco selector sv active feeder e un mulinello mito srx 4000 la selector sv active feeder è una canna in tre pezzi realizzata con carbonio cx1 alto modulo micro pitch con rinforzi a x sulle giunture è una canna che dispone di tre vettini light medium heavy per adattarsi a qualsiasi situazione di pesca il manico è splittato l'impugnatura è in eva ed è disponibile in due misure 3 metri 60 3 metri 90 entrambe con potenza di lancio 100 grammi non fatevi ingannare dal nome perché la selector sv active feeder non è una canna esclusivamente da pesca in mare dall'orata alla carpa è un attrezzo che può essere utilizzato appunto sia in mare sia in acqua dolce acque libere e laghetti il mito srx 4000 è un mulinello a frizione anteriore micrometrica con dischi maggiorati ha una bobina di grandi dimensioni maggiorata per l'utilizzo appunto nella pesca feeder che richiede a volte lanci lunghi ben cinque sono i cuscinetti a sfera la manovella è di grandi dimensioni così come il pomello questo per aiutarci nel recupero e darci maggiore potenza e sensibilità durante le fasi più calde del combattimento il rullino guida filo e as anti twist in dotazione troviamo una bobina di ricambio in grafite quindi con soli 129 euro riceverete comodamente a casa vostra senza alcuna spesa aggiuntiva una canna trabucco selector sv active feeder e potrete scegliere tra la versione 12 piedi ovvero 3,6 metri o 13 piedi 3,9 metri entrambe con potenza di lancio 100 grammi e un mulinello mito srx 4000 affrettatevi www.sportit.com venite a scoprire la nostra grande offerta per la pesca feeder